Buongiorno, sono Mauro Valazza di Leading Technologies, mi occupo del settore installazione Leading Technologies, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Arlan Professional e siamo qui alla CIEC Convention Audio Forum per la presentazione di tutto quello che siamo in grado di offrire per il trasporto audio digitale, particolari prodotti di BSS con tutti i protocolli che vengono supportati e per questo abbiamo ospitato Justin Henkins che è di BSS e che è il costruttore e uno dei massimi esperti internazionali di questi prodotti.